Siamo in via Volta a Magenta. Qui alle nostre spalle abita Laura Villella, la ragazza di 17 anni che venerdì scorso è scomparsa insieme al fidanzato e che lunedì è stata ritrovata dai carabinieri in Trentino. Su sette giorni di venerdì troverete l'intervista alla giovane con il racconto della sua fuga.